è quasi la sua la tua dovrebbe arrivare la sua era quasi su lui se la guida quel pastato c'è quell'altra più lunga ma quella la puoi tagliare fuori di fianco si la puoi evitare ma teoricamente anche questa se vai su di lì arrivi su all'altra ma vedo dura tanto la non ci arrivo fermati fermati qua almeno lui arriva su devi partire molto forte sotto con questa forse arrivi su bravo 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 grazie 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 grazie